Sono più di 600 minuti che non prende un gol, stiamo in zona record, è un affare, credimi. Sto lavoro è un po' più per te Bartolome, basta, lascia aperte. Vio, 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 vio! Se non paghi, il debito aumenta, non c'è giocà Bartolome, non c'è giocà. Niente, niente, niente. Ma l'hai visto bene i video che ti ho mannato? Quello è un fenomeno. Sui video può essere tutto e può essere niente. Che mi ha fatto venire a fare? Fidati, è l'occasione della vita. Ma tu me lo devi far vedere sul campo di carcere, no che me lo presenti qui al semaforo. Tu mi farai una statua d'oro, te lo dico io, una statua d'oro mi farai, lo vedrai. E andiamo! Grande, Fablito! Mi hanno detto che è un problema fisico. Bene, io sono veramente rovinato. Tu sei nato rovinato. Grazie. Ma se fa sapere, che cazzo stai a facqua? Se noi troviamo una bella squadra, io ti assicuro che allora lo ritrovi tuo padre. Ciao papà. Tesoro. Andiamo dai. La cura che vogliono fare è un po' diversa da quella che pensiamo, no? Diciamo che è un po' più rustica. Che senso più rustica? Questa è l'occasione che aspetti da una vita, Bartolome. Non la butta nel cesso.